Grazie a tutti, sono qui con i ragazzi di Rasmus, questa è Valentina, Cristina, Gioquine da Spagna e tutti da Spagna, e io sono Lorenzo da Italia. Questo è il show di Rasmus e noi presentiamo questo progetto e ora Valentina ci dice qualche informazione. Questo progetto coinvolge tre scuole diversi da tre paesi in l'Unione Europea, la scuola di Clara Oberheim in Würzburg, la scuola di Gregorio Pelleto in Val di Venna e la scuola di Cesare Edis in Verano, Italia. Grazie, Valentina. E ora Rodrigo, puoi raccontare qualcosa del tuo esperienza in Germania? Sì, ok. Penso che abbiamo una molto buona esperienza perché facciamo molte attività diverse. e, per esempio, un giorno andiamo a un supermercato che ha molti prodotti molto diversi prodotti di slow food con la qualità e il prezzo. Per esempio, possiamo comprare molti diversi tipi di bread, ham, fresco e molto più. Il primo giorno andiamo a una farm, ci troviamo diversi animali. Il più importante sono i figli. Sono molto piccoli perché hanno tre colori. e il primo giorno hanno un pezzo di bianco, un pezzo di bianco e la scuola di bianco. E il primo giorno è un pezzo di bianco e il primo giorno è un pezzo di bianco. Grazie. 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 Grazie a l'Italia e Cristina parla su l'Italia. Sì, ho avuto un ottimo tempo in Italia con molti esperienci. Per esempio, su l'open day dell'Italia. La scuola è stata presentata per i nostri studenti e i bambini. La maggior parte era il menù di 5 corsi, il menù di slow food, preparato da i studenti durante la settimana. Dopo il menù, la scuola è ottenuta la certificazione slow food ed è signata in fronte dei giusti. E ti piace? Sì, mi piace. La pizza è la migliore. Grazie Cristina. E ora ci siamo in spesa con la macarena. Valentina e Valentina parlano nuovamente. In spesa abbiamo avuto 5 big F. Fun, food, family, fries and fiesta. Sì, erano molto grandi giorni. Abbiamo visitato molti diversi strutturi e industrie. Abbiamo avuto una fabbrica di cheese con gara. Il smell era molto buono, ma era molto interessante. Abbiamo provato diversi tipi di cheese. Mancezo cheese. Mancego, sorry. E' stato molto, molto buono. Abbiamo provato molto. Abbiamo provato anche il vino. In spesa è un vino molto buono. Abbiamo avuto un vino. Abbiamo avuto un po' di churros. Churros sono fantastiche. Grazie a tutti! Ci vediamo la prossima! Mua!